In via di Casal Palocco si giocava una delle partite più cariche e sentite del Girone C, ovvero quella tra Palocco e Pescatori Ostia, tribune gremite con Christian Lodi, allenatore degli Arancio Blu, che ritrova il suo passato, ovvero il Pescatori Ostia, allenato da Paolo Albano e ancora imbattuto in questa stagione, a punteggio pieno nelle prime due giornate. Gli uomini di Lodi provano ad imporre il proprio gioco sin dalle battute iniziali e si portano avanti con l'incornata piazzata e ben angolata di Marinucci, che batte un gattella un po' incerto in questo caso, per l'1-0 del Palocco. Il Pescatori risponde presente sin da subito e impegna Pontesilli con un bel pallonetto. Gli squali lanciano poi a rete Masciangelo al minuto 25 che spreca da ottima posizione. Gli ospiti creano e finalmente finalizzano le tante occasioni con Di Nardo, bravo a farsi trovare pronto all'appuntamento dopo una grande azione corale degli uomini di Albano. Rivediamo dunque il pareggio del Pescatori. I gialloverdi iniziano un'altra azione interessante con Vecchio, che è bravo nella prima parte di azione, ma poi non capitalizza la corta respinta di Pontesilli, scivolando. Poco dopo aver trovato il gol Di Nardo, avrebbe di nuovo una ghiotta occasione, non adeguatamente sfruttata dal numero 11, che non arriva all'appuntamento con il pallone. Capitano Lopresti non c'è e dunque il Pescatori ribalta il vantaggio iniziale del Palocco, con la punizione di Vecchio, prolungata sul secondo palo per il colpo di testa a rete di Marzi. Sempre su pala inattiva, questa volta da calcio d'angolo, arriva il tocco decisivo di De Chiara, con il Palocco che si rimette in carreggiata e agguanta il pareggio allo scadere della prima frazione di gioco. Termina così un primo tempo vibrante ed equilibrato, con ben quattro gol in 45 minuti. Se il primo tempo è principalmente targato dalla Pescatori, il secondo vede subito il Palocco rendersi pericoloso. Il Pescatori replica con Masciangelo, che costringe l'estremo difensore del Palocco ad una parata prodigiosa. Gli ospiti insistono con Di Nardo, Murato, con gli uomini di Albano, sfortunati in questo caso. Dopo questa doppia clamorosa occasione per il Palocco, termina un match equilibrato e divertente. Il Pescatori sale a quota 7, il Palocco si rifà dopo la sconfitta contro lo Zena.